Allora, cavallo, L, scacco matto, Mauro, non fare quella faccia, lo so. Mi sento osservato da tutto il giorno, ma tutto il giorno, lo sapevo, mi sono preparato questa volta, I had a mother fuck, capito, russi monedetti. Mi avete abbastanza, eh? Che che non dici Mauro? Cioè, deve essere tutto sull'ex. Per me lo sparo un kartofen, capito, capito? Maledetti russi, maledetti russi, maledetti. Mi tengo sperato! Mi tengo sperato! Sperma! 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 Ok, devo non ricaricare. Eh, eh, presi! Ok, ok, no, nulla, uno, no, 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 ne ho ricaricato! Non è nulla, boi, vabbè, siete proprio sciati! Eh, 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 sono qui! Non dovete ricaricare i miei maledetti! Mi hanno ricaricato l'infame! Ciao! Ho ricaricato l'infame! Ragazzi, vi mando voi! No! Figliola, maledetta! Manco! E' scerco! Ok! Ma metto buono per attaccare! Fermo! 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 Mi dichiaro un arresto, anche se sono militare! Se mi posso chiamare militare! Vi dichiaro un arresto! no bastardi e non siete altro da parte capito no mi stanno riascaldando la base tutti a terra tutti a terra mi riascaldano la base mauro aiutami mauro mauro sembri un cartofen lì mauro mi arrendo mi arrendo no scherzo allora anche la maschera di venerdì 13 maldetti si trattano bene sti russi tu cos'hai allora allora sentite ragazzi non mi ricordo manco più perché siamo finiti finì capito no ma che cacchio ma cos'è hanno levato sta barbonata che è meglio non ho detto sta barbonata o sarà male ma c'è ne sento due di tirami su no 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 no